Ragazzi, piramide centrocampisti dell'Inter dal 2010 ad oggi Tosta eh? Vai! Ci siamo Freddy Guarin, calciatore che a me piaceva tanto Freddy Guarin era un centrocampista che ai tempi dell'Inter aveva considerato quasi come un fenomeno E lo era Era molto forte però era molto discontinuo Era una botta da fuori, mi ricordo con la davantata doppietta, il core contro il Celtic in Europa League sotto l'incrocio Io, essendo che sono dal 2010, non so se rischia la seconda No, io lo metto terzo perché comunque era discontinuo Terzo è sicuro Era discontinuo Terza fascia Cambiasso Eh, cambiasso È cambiasso, uno degli eroi del triplete Seconda? Eh, seconda prima, cioè il fatto è che se ci sta, quello che ci deve stare Eh, è squelto, però conoscendo il nostro amico Pierre Seconda, dai Seconda, dai Marcello Brozovic Brozovic Terza fascia Terza perché nonostante il grandissimo giocatore che era ci ha messo tanti anni a diventare quello che poi diventava Sì, sicuramente veniva spesso col testarato Eh sì, ma perché non era, secondo me non era neanche all'altezza all'inizio Poi si è preso con Conte e è diventato quello che è adesso Felipe Mello Felipe Mello Lo metto primo Eh sì Allora, per il cuore dice primo, la giurabilità dice quarta Eh, quindi Fa male Eh, fa male, lo so, fa male pure a me, però Va bene così Ah, cancella non blu Eh, cancella non blu Eh, cancella non blu Io sento una buzza di... Di veramente, guarda, lo so di seconda Io lo rischierei primo No Eh, Massimo No Massimo Lu, se è sicuro che abbiamo detto, so che anzi Eh, se non è sciuro che abbiamo detto, è sempre il concetto Eh, vabbè, ma ci sono pure quelli del triplete Ma, umore, è già uscito Guarda, eh, la bocca è da seconda Per me è da seconda, non è che sto di però Vabbè Proviamo seconda Dai, dai Chiiremo, dai Gagliardini Qua non è che il cuore dice primo, non vuoi avere quando già Dejan Stankovic No possiamo metterlo Primo Ebbè Primo Ebbè Il DRAGONE primo Snyder Eたい E' lui lo era stato primo Porcosciuta A bo terzo, dai Kuzmanovic va bene e Barella sono sicuro e Barella eh lo sapevo guarda Barella in quarta fascia io farei magari Snyder io farei Snyder Stankovic e Barella poi c'è Danoglu, Brozovic e Stankovic no, Stankovic Stankovic e Cialanoglu e Barella poi Cialanoglu, Brozovic e cambiasse per il resto la quarta fascia la beneduta